Craft Maga La consigliamo a voi e a tutte le persone Craft Maga è la migliore difesa anti-aggressione Potresti essere attaccato da delinquenti e ladri KM è la tua difesa a 360 gradi Devi correre, scappare, neutralizzare la minaccia Per salvarti la pelle, sì, e salvarti la faccia Gli elementi fondamentali sono semplicità, velocità, efficacia ed aggressività Craft Maga, l'autodifesa da strada Craft Maga, l'autodifesa che si dilacca Craft Maga, l'autodifesa che ti ripaga Craft Maga, se non la conosci allora ridaga Craft Maga, l'autodifesa da strada Craft Maga, l'autodifesa che si dilacca Craft Maga, l'autodifesa che ti ripaga Craft Maga, se non la conosci allora ridaga Lo chiamano la Belva, forse perché è morte Lo chiamano la Belva, lui è Christian Burdi Ha lottato tutta la vita per salire sempre più in alto A volte è caduto, ma si è sempre rialzato Si è rialzato più forte, più forte di prima Anche nelle giornate storte è sempre toccato la cima Il suo motto è Non conta quante volte cadi, ma quante volte ti rialzi E vai avanti Lo chiamano la Belva perché è duro come un masso Gli piace guardare dall'alto verso il basso La gente lo rispetta, dice che è un grande uomo Rappresenta il Craft Maga nelle zone di Belluno